Buonasera a tutti agli amici di Parlami di te. Dopo Elisa Ridolfi, questa sera sono particolarmente felice perché abbiamo qui un'altra ospite che è uno dei grandi nomi della città di Fano. Quattro titoli italiani, dieci scudetti con Aurora Fano, due coppe europee. Laura Zacchilli non ha bisogno di presentazioni ma ho voluto comunque presentarla. La pluripremiata campionessa di ginnastica ritmica è stata l'unica atleta di ginnastica ritmica a portare individualmente il nome della città di Fano agli Olimpiadi ed è davvero un onore essere in sua compagnia oggi. Laura, partiamo dal momento in cui tutto è iniziato. A che età hai incontrato la ginnastica ritmica? Tanto buonasera a tutti. Allora, io ho iniziato che avevo quattro anni, all'incirca quattro anni e mezzo e ho iniziato perché andava a ginnastica mia sorella, che poi ha seguito tutt'altra strada. Ho fatto pallavolo, non a livelli altissimi, però comunque insomma se la cavava bene. I miei genitori mi portavano in palestra con lei e io non stavo mai ferma. E da lì mi sono appassionata. Mi sono appassionata tanto che l'allenatrice che mi seguiva in quel momento nel quartiere, tra l'altro di Sant'Urso, era questa società, mi ha portato nell'Aurora Fano, che era una società giovanissima, che ha aperto nell'89 e faceva proprio ginnastica ritmica. E da lì è iniziato il mio percorso. A otto anni le prime gare, la prima gara tra l'altro disastrosa, perché sono arrivata tra le ultime, ho fatto tutto l'esercizio fuori pedana, perché non so se nella ritmica bisogna fare l'esercizio all'interno di un quadrato, di una pedana, 13x13. Io ho perso la palla, me ne sono andata fuori il pedano, ho continuato, quindi il mio punteggio, potevo essere quarta, sono arrivata in fondo alla classifica. Quindi questo è un piccolo aneddoto di inizio carriera, diciamo. E poi da lì c'è stato tutto un insieme di evolversi, allenamenti collegiali estivi, nel 91 la mia prima entrata nella scuola nazionale, ho fatto il mio primo europeo union allus nel 93, avevo 13 anni, e ho fatto il mondiale juniores nel 95 ed ero la più piccola della squadra, perché erano tutte ginnaste, diciamo, esperte, e io avevo partecipato a quel mondiale con un attrezzo. Quindi poi da lì, insomma, si è iniziata la mia carriera in salita, se vogliamo, con momenti più bui, con momenti belli, gioiosi, con una carriera bella, piena di sacrifici, ma comunque quando c'è la passione, i sacrifici, insomma, non si fanno da parte. E' così. Come dicevamo, tu sei stata campionessa italiana individuale, assoluta per quattro volte, ti sei classificata al decimo posto ai mondiali di Madrid, quindi un buonissimo punteggio del 2001, e all'undicesimo posto alle Olimpiadi di Atene. Tra tutti questi successi, e sono stati veramente tanti, ci vuoi raccontare qualcuno, perché penso che siano infiniti momenti emozionanti, qualche momento particolarmente emozionante? Il primo sicuramente è il mio primo titolo italiano assoluto, perché è comunque il titolo nella ginnastica ritmica, quello più importante, che ti corona comunque campionessa italiana assoluta, ed è quindi una grande soddisfazione. E poi sicuramente la qualificazione durante il mondiale di Budapest per le Olimpiadi. Io mi sono infortunata nel 99 e potevo fare le Olimpiadi di 2000 di Sydney, ma mi sono infortunata, e quindi diciamo che poi la mia preparazione durante il percorso estivo è andata un po' così, un po' meno bene, quindi non sono riuscita ad andare a Sydney. Quindi per me andare alle Olimpiadi quella successiva era veramente un grande obiettivo, anche perché per uno sportivo andare alle Olimpiadi penso che sia il coronamento di una grande carriera. E quindi ci tenevo tanto, e quindi prendere quella qualificazione per me è stato il momento più importante della mia vita, sicuramente della mia vita sportiva. Ma in mezzo a tutti questi momenti bellissimi, c'è qualcosa che se tornassi indietro faresti diversamente, che vorresti cambiare? Che volessi cambiare? No. Sicuramente mi sono dispiaciuta tanto degli infortuni che ecco, come dicevo prima, purtroppo non mi ha fatto fare l'Olimpiadi che forse probabilmente avrei potuta fare, perché sicuramente la qualificazione la dovevo prendere, mai dire mai. però magari potevo fare due Olimpiadi, chi lo sa. Ho preso questo infortunio, il primo durante un campionato italiano, che stavo vincendo, mi sono infortunata proprio durante l'esercizio, all'ultimo attrezzo, avevo il titolo nelle mani, durante l'ultimo attrezzo mi sono infortunata, e quindi il titolo italiano è poi andata alla mia compagna. e chissà che magari con l'Olimpiadi non l'avrei potuta fare anche io, anche perché mi ero appena, insomma, lavorata campionista italiana. E quindi da lì poi c'è stato tutto un altro quadriennio dove ho dovuto puntare tutto, perché ho detto queste Olimpiadi bisogna che le faccio. E quindi, ecco, magari l'avrei potuto fare prima, però chissà, mai dire mai nella vita. L'importante è che poi sono riuscita a fare quelle dopo, insomma. Questo aneddoto che mi hai raccontato del tuo infortunio e della tua compagna mi dà un attimo l'assist per farti una domanda. Ma com'è l'ambiente della ginnastica ritmica a così alti livelli? C'è solidarietà o c'è solo tanta, tanta competizione? Solidarietà, perché no? Sicuramente in molti momenti trovi molte compagne, molte persone che ti stanno vicine, quelle di cui ti puoi fidare di più, che sicuramente sì, ti danno molto sostegno. Però comunque, nello stesso tempo, è un ambiente di sole donne, quindi le donne tra di noi siamo molto invidiosi, lo sappiamo, competitiva. E poi lo sport comunque ad alti livelli è competizione. Ecco, io avevo questa mia compagna, che è Susanna Marchesi, che eravamo tanto, tanto amiche al di fuori, però poi sulla pedana. eravamo, diciamo, rivali. Però al di fuori eravamo molto amiche. Quindi ci sono persone di cui ti puoi fidare, e persone no. Sicuramente i familiari sono quelli su cui è la tua allenatrice, e nel mio caso la responsabile della società Aurora Fano, Paolo Porfiri, la mia allenatrice, Nani Londarizza, che comunque sicuramente sono persone che mi hanno sostenuto tanto, sì, nella mia vita, sì. Invece se ti chiedessi se c'è stato qualche momento imbarazzante, magari una caduta, ti va di raccontarci qualche aneddoto un po' così, diciamo, simpatico? Imbarazzante non me lo ricordo, sinceramente. Imbarazzante no. Forse il fatto di essere infortunata proprio durante una gara, ecco, essere caduta in mezzo alla pedana durante una gara, non dico che possa essere imbarazzante, però sicuramente, insomma, mi ha portato molto a dispiacere, quello sì, anche perché mi hanno dovuto portare fuori dalla pedana, abbraccio, è stato un attimino, però sono cose che capitano, però imbarazzante che io ricordo no. La carriera sportiva richiede dedizione, richiede tenacia, ma anche rinunce. Tu eri giovanissima quando sei entrata all'interno di questo mondo, e durante la tua adolescenza soprattutto a che cosa hai dovuto rinunciare? Allora, sì, la carriera di uno sportivo, soprattutto nel nostro sport, inizia, diciamo, il clou della carriera, che si è molto giovani, adolescenti, diciamo dai 16 ai 20 anni, anche prima adesso, insomma, siamo nel pieno della nostra attività. Rinunce? Allora, quando c'è la passione, io non parlerei di rinunce, perché alla fine sì, è vero, non si può fare la stessa vita che può fare un adolescente, diciamo, normale. Adesso non è che voglio sminuire questo, però sicuramente la carriera di un atleta a livello agonistico si rinchiude, diciamo, dentro la palestra. Noi poi nel nostro caso, dalla mattina alla sera, dalle sette alle otto ore, insomma, tutti i giorni. Rinunce? Sì, magari io facevo scuola privata, è già quello, non andare a scuola come tutti i tuoi compagni, se vogliamo, può essere una rinuncia. Però facevo scuola privata con le mie compagne dell'epoca e quindi stavamo bene lo stesso. Non si può uscire tutte le sere, ma comunque noi riuscivamo a farlo lo stesso, ma non la riuscivamo di nascosto. Io sono stata dai 16 ai 20 anni in ritiro con la squadra nazionale a Follonica, in Toscana, ed eravamo otto ragazze, più o meno tutte della stessa età. E quindi, sì, abbiamo rinunciato, ma ci siamo anche divertite tanto. Insomma, adesso non parlerei di rinunce, perché poi tutto quello che non abbiamo fatto prima si può fare dopo, tranquillamente. Però nello stesso tempo io mi porto avanti un bel, un bel, diciamo, malloppo di esperienze. Un bel bagaglio, certo. Sì, un bel bagaglio. Cosa che magari invece un altro adolescente non può farlo. Ecco, sono vite diverse, però se c'è la passione non parlerei di rinunce. Diciamo, ci sono delle rinunce, ma è una grandissima opportunità che ripaga poi. Sì, che poi dopo, sì, non puoi ritrovare più avanti nella vita. Perché poi la carriera sportiva inizia, che sei giovani, ma poi, insomma, se inizia a farla dai 20 in su non è comunque una carriera sportiva. Insomma, non ti può dare quello che puoi aver fatto prima, ecco. Ora la domanda di Rito, quella che nel corso di questa edizione del programma abbiamo fatto un po' a tutte le grandi personalità che abbiamo intervistato e che vorrei fare anche a te. Che consiglio, te l'avranno chiesto tante volte, daresti alle piccoline che si approcciano a questo sport e che hanno magari, come avevi tu, dei grandi sogni? Allora, sicuramente di divertirsi, di trovare quello sport che faccia star bene, che faccia trovare nuove amicizie, che ti faccia star bene nell'ambiente in cui si è. E poi sicuramente ci deve essere la passione, la voglia di andare, di dire uff, no, non ho voglia, cioè devi trovare la carica dentro di te, e cioè il tuo obiettivo deve essere andare quell'oretta che poi da piccolino si è per andare nella palestra o dove, o in qualsiasi altro ambiente. Quindi secondo me la passione e la voglia di divertirsi sicuramente da piccolo. Poi dopo da cosa nasce cosa, ma l'importante è che ci sia il divertimento. Ecco, quello sì. La motivazione, quindi nasce sempre dalla passione. Ma pensi che tutti possano avere dei grandi risultati con l'impegno o soltanto l'impegno non basta, serve quel qualcosa di nato, quella scintilla? Sicuramente l'impegno, diciamo, è l'80% del risultato, ma soprattutto nel nostro sport, un po', diciamo, che madre natura qualcosa ti deve dare. Sì, bisogna essere comunque anche dotati per fare, io parlo adesso nello specifico del mio sport, della ginastica ritmica, comunque un qualcosa di tuo devi avere, che poi dopo possa essere migliorato, sicuramente con il lavoro, perché se si è svogliati comunque non si arriva da nessuna parte, però sì, secondo me qualcosa di tuo bisogna avere. Infine vorrei sapere chi è Laura Zacchilli oggi, perché abbiamo raccontato tutta la storia di Laura Zacchilli sportiva, ma poi abbiamo seguito dalle cronache dei giornali il tuo matrimonio, la nascita di tuo figlio, com'è oggi la tua vita, che cosa fai? Io sono sposata con Raffaele, è un bambino di nome Niccolò, che ha quattro anni e mezzo, che anche lui ha iniziato da poco a fare ginnastica, e si diverte tanto, si diverte, anche se quando ci devo andare non ha tanto voglia, ma poi quando lì c'ha tanta voglia. Lavoro in aeronautica, sono in forza al quindicesimo stormo di Cervia e continuo comunque a portare avanti la mia passione, che è insegnare ginnastica ritmica. Ecco, infatti. Sempre, non riuscirei mai a rinunciare alla ginnastica. Lavoro, insomma, ho lavorato nell'Aurora Fano fino a poco fa, adesso per motivi, diciamo, anche miei personali, ho deciso un po' di abbandonare e comunque lavoro in giro per l'Italia, dove mi chiamano, e adesso sono in collaborazione con la squadretta Juniors nazionale, che è Salina Fabriano, in vista dei prossimi europei, che saranno a giugno. Quindi questo amore con la ginnastica non finirà mai, lo possiamo dire? Assolutamente no, no. È nato da piccola, ve lo porterò finché vivrò, e finché potrò farlo, sicuramente. Lo trasmetterai anche alle giovani generazioni. Ma finché c'è passione, si trova anche lì sempre il momento per poterlo fare. Vorrei salutare a questo punto i telespettatori, ringraziarli per essere stati con noi e ringraziare Laura anche. Grazie a voi. Grazie a tutti. per la scuola, e ringraziare la scuola con la ginnastica, è un'esplice davvero difficile. Il ginnastica è una pelle più difficile di lavorare le piacere, perché hai bisogno di da tutto il tempo, non potresti non legge o di dobbiamo spettare o di dobbiamo sul pazzesco. Hai bisogno di formare con la ginnastica, con i suoi di rinforo, con i suoi di saranno, o i suoi di saranno, o i suoi di saranno, con i suoi di saranno, con i suoi di saranno, con i suoi di saranno, è molto difficile anche per mantenere il ribbono devi assicurare che non si toucha il corpo all'alto durante l'exercito è stato un grande lavoro so far c'è uno dei boomerang throws che vediamo in le ribbono molto 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 e una piccola tossa con il ribbono anche se che vediamo un giro under il leg e una davvero buona luce è stata una buona performance Grazie a tutti. Grazie a tutti.